buongiorno, lo potevo prevedere come cosa? assolutamente sì, l'ho prevista? no ma che bella giornata, ci sta il sole, approfittiamole un pochino, un po' di vitamina D, non ho mai fatto male a nessuno comunque non ci sta niente di più bello, e vi sto dicendo questa cosa perché è una cosa che sto sentendo in questo momento non ci sta niente di più bello di quando è inverno, ci sta il sole, e fa freddo perché in questo momento fa freddo, non fa caldo però il sole diciamo un po' riscalda, e si sente l'odore del cammino, mamma mia, l'odore del cammino d'inverno è bellissimo comunque, anyway, happy Saturday, happy sabato, benvenuti o ben ritornati sul mio canale, è piacere per chi non mi conoscesse io sono Danilo, e benvenuti in questo nuovissimo video oggi in programma non ho granché, a parte da, come vi ho detto ieri, che vorrei uscire e oggi pomeriggio questa sera, ma vediamo un pochino come è la situazione però, cioè no, devo limitare il mio tempo a casa perché veramente, passando tutto il tempo tra lavoro e vita personale a casa sto un po' degenerando, mamma mia, questo sole è proprio bello comunque, proprio ahhh ahhh Musica 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 Ieri era il notturno di tagliarmi i capelli? Ora, e... Su... Quindi... Vediamo Ormai i mischios da portiere sono renomati in tutto il mondo Musica 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 Che bello, cioè hanno realizzato fino ad oggi di quanto le giornate si stiano allungando, cioè sono le cinque Ed è ancora giorno a giorno Bello Che bello Io tutto questo mi sono appena seduto da una power nap Bellissima Musica 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 Ok, sappiamo tutti questa inquadratura, sappiamo tutti cosa significa Ovvero Outfit time Allora Don't look at the back of my hair Sono... sono in disordine Allora, cosa ci mettiamo? Non so se mettere i jeans o mettere un pantalone Allora, io volevo mettere questa maglietta bianca con, non so se andare di questi o di questi Però adesso vado di jeans perché voglio essere un pochino più casual Non voglio essere troppo... Pino Too much Vediamo un pochino Ah, tipo una cosa così Semplice Con Magari ci potrei mettere questo sopra Però forse non è un po' troppo Penso sia un po' troppo No, voglio fare una ripersona così 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 Buonasera a tutti quanti Siamo ritornati a casa già da un po', devo dire E abbiamo celato Stavo letteralmente uscita molto veloce Cioè siamo stati tipo 2-3 ore in centro Siamo ritornati a casa E come ogni sabato sera che si rispetta Naturalmente Divano E C'è posta per te con la mitica Maria Quindi sì Queste sono le previsioni di questo sabato per il momento Ah, che bello È stato bello uscire un pochino Poi sapere che si ritornava a casa Al caldo, perché Sinceramente si sono abbassate veramente tanto le temperature qui a Londo Cioè tipo adesso ci sta un grado E... Fa freddo Oggi devo dire Vlog veramente molto Cielo e molto quiet Non ho... Non ho fatto nulla di che Cioè veramente riprendo di più quando lavoro durante il giorno Che nelle mie giornate libere Però... Oggi ci stavo un pochino rilassati Prendermi la giornata un po' per me E non... Concentrare tutto magari nel vlog Anche perché sono state un paio di settimane molto intense E... Da quando ho inserito anche il fatto dei vlog Che sto cercando di caricare il più possibile Devo dire che... Passo veramente 24 ore su 24 a lavorare A fare cose Quindi oggi... Oggi... Oggi pomeriggio soprattutto A un certo punto stavo vedendo un video Volevo iniziare a editare anche i miei video E... Quando sono crollato Cioè mi sono addormentato Io ho capito ho fatto Vabbè sai cosa Oggi... Quello che ci esce ci esce Va benissimo Così a prescindere Che vado a vedere? Buonanotte Buonanotte Ehm... Ah sì perché in tutto questo È l'una e mezza di notte E io voglio concludere un attimo questo vlog Dicendo che cosa ti stavo dicendo Ehm... Sì vabbè appunto Mi siamo voluti un attimo Rilassare oggi un pochino di più Ehm... Perché ne necessitavo E... Parlando di caricamenti Ultimamente Che appunto sto cercando di caricare tutti i giorni Ehm... Fatemi sapere cosa ne pensate Se vi piace come idea Cioè da quello che stiamo vedendo Sembra piacere come idea Perché i video stanno andando Quindi sono veramente tanto tanto contento Io vi ringrazio tantissimo E soprattutto voglio anche da fare un saluto A tutte le nuove persone che stanno arrivando Ehm... Sì che a quanto pare sembra che la gente sia iniziata a capire Che ci si può iscrivere anche al mio canale E' gratuito Quindi se sei nuovo e stai guardando questo video E non ancora sei iscritto Soprattutto sei arrivato Ormai alla fine del video Cosa stai aspettando? Iscriviti! Però sì ci tenevo a dire che nonostante magari sto dormendo pochissimo E sto lavorando tantissimo Però sono veramente felice di quello che sto portando su questo canale ultimamente E che lo faccio già con piacere Nonostante mai sono stanco Cioè che mi buce appunto il luna e mezza Devo finire di editare ancora il video Però sono contento Sono contento E sì non voglio fare troppe promesse Perché io ormai lo so Non devo parlare Cioè devo andare con il flow In effetti non so se vi siederesti quanto male Non dico mai ci vediamo domani Ma dico sempre ci vediamo al prossimo video Perché non voglio dare per scontato che ogni giorno ci sia un video E il mio intento però non lo voglio assicurare Quindi appunto noi ci vediamo al prossimo video Io vi mando un bacio grande Grazie mille per accompagnarmi Fate veramente tutti i giorni su Instagram Tiktok qui dappertutto Io vi ringrazio tantissimo Se sei nuovo o nuova Io ti ricordo di iscrivervi al canale È un click È gratis Mi fareste forse più felice al mondo E vi ricordo di lasciare un pollice in su Perché mi farete capire veramente tanto E sì Un bacio grande Ciao ciao